Buongiorno a tutti, sono Andrea Mainini e questo sono io a 12 anni. Come potete notare dall'immagine già il mio look lasciava trasparire la possibilità che sarei potuto diventare un ingegnere e infatti è stato così e mi sono appassionato talmente tanto che ho deciso di conseguire un dottorato e successivamente di continuare la mia carriera come assegnista di ricerca presso il Politecnico di Milano e occuparmi di efficientamento energetico. Per fortuna non sono solo un ingegnere, sono anche un cantante, un appassionato di tecnologia applicata e un viaggiatore. Sono stato anche un imprenditore perché assieme ad alcuni miei amici ho fondato Mammao.it, la prima piattaforma di takeaway di cibo tra privati. Poi in un incontro a Singularity University ho conosciuto Rita Pizzi, un'esperta di intelligenza artificiale con cui ho iniziato a lavorare da subito su un'idea molto interessante che ha portato poi successivamente il coinvolgimento nel team di altre tre persone che si sono appassionate da subito con le loro competenze trasversali rispetto alle nostre. Sappiamo tutti che il problema dell'inquinamento dell'aria è sentito e condiviso a livello globale e in maggior parte è dovuto alle emissioni di particolato fine di sostanze climaalteranti derivanti dal settore dell'automotive. È un problema che ci riguarda molto da vicino perché è risultato che l'aria italiana sia una delle più inquinate d'Europa. Per questo motivo noi riteniamo che la transizione verso la mobilità elettrica possa essere un modo per risolvere la problematica così come per incentivare l'utilizzo di risorse rinnovabili. Non siamo gli unici a pensarla così perché è notizia degli ultimi giorni che Tesla ha superato in termini di capitalizzazione sia General Motors che Ford. Il vero problema però per la diffusione di questa tecnologia è la mancanza sistemica di un'infrastruttura di ricarica diffusa su tutto il territorio. Però ognuno di noi ha in caso una presa simile a questa e con pochi euro può dotarsi di un adattatore oppure magari ha già una wallbox dedicata per la ricarica del proprio veicolo. Basandoci su questa consapevolezza abbiamo deciso di sviluppare il progetto People Have the Power. Infatti il nostro obiettivo è quello di creare una rete solidale di punti di ricarica elettrica condivisa. In questo modo il privato cittadino o il pubblico esercente tramite un'app gelocalizzata possono decidere di mettere in condivisione una postazione di ricarica e successivamente di valorizzarla tramite servizi tipici della sharing economy quali potrebbero essere promozioni di acquisto dedicate, uno spazio di lavoro in co-working, la possibilità di vendere dei prodotti tipici o avere una stanza a disposizione per la notte. In un futuro prossimo pensiamo di estendere questi servizi a una logica di condominio così come integrare device IoT per l'ottimizzazione dell'uso delle risorse rinnovabili presenti nell'edificio. In questo modo sarà possibile massimizzare il consumo in corrispondenza dei picchi di produzione dell'energia, efficientare la rete elettrica sfruttando la bidirezionalità di comunicazione con le batterie dei veicoli elettrici e la possibilità anche di gestire dei pagamenti digitalizzati per l'eccesso di energia elettrica prodotta tramite sistemi blockchain. Adesso tocca a voi, NASA o CASA per People Have the Power? Io suggerisco NASA. Grazie. 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 Grazie.